Siete stanchi di fare le pulizie? Siete stanchi di pulire ogni angolo della vostra casa? Ha detto ogni angolo della casa, io dico basta, la soluzione c'è e qual è? Un robot aspirapolvere, non uno ma ben due robot! Va bene, va a pulire la casa dell'altro anche! Guarda che bravi! Pronti? Via! No! Perché va di qua? Pronti? Via! No! No, vai in là! Vai, vai, vai! No, vai in là! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! La mia telecamera! Ma no, non si è fatto niente! Guardate qua, è ancora intatta! L'ho salvato proprio a pello! Ma avete visto il cronometro? In realtà era un metro! Non avevo un cronometro sotto mano! E ho fatto tutto questo solamente perché ho un nuovo robot! Un robot evoluto rispetto alla versione precedente provata! Ed eccolo qui! Gli ECTROUX B6009! Presto su YouWinBlog!